Una nuova grave crisi economica rischia di mettere in pericolo le democrazie e creare ulteriori pericolose povertà. A lanciare l'allarme è Carlo De Benedetti dalle colonne del Corriere della Sera. L'Occidente, dice, è una svolta storica, è in gioco la sopravvivenza della democrazia anche a causa della situazione economica e finanziaria. Siamo alla vigilia di una nuova grave crisi economica che aggraverà il pericolo della fine delle democrazie così come le abbiamo conosciute. Secondo De Benedetti la politica monetaria espansiva di BCE e Fed non risolve il problema. Questo, sempre secondo De Benedetti, porterà con sé delle conseguenze politiche con il predominio di regimi autoritari. Dal mondo all'agro nocerino sarnese il passo è breve, anche perché la povertà continua a travolgere sempre più persone e famiglie. Prendiamo l'esempio di Pagani, dove alla mensa voluta da Don Flaviano Calenda, parroco della Chiesa del Corpo di Cristo, ogni giorno si presentano tantissime persone. Noi parroci siamo, come dire, i registratori di questa situazione di indigenza, di povertà. Ecco perché mi sono attivato quasi quattro anni fa a istituire questa mensa di Tommaso proprio per avere l'incontro a tutte queste famiglie in difficoltà. Ricordo i primi anni che sono stati qui a Pagani, erano 70, 80, 100 famiglie. Adesso invece questa povertà, questo disagio delle famiglie si è accentuato. Dovremmo un po' fare di più, come Chiesa, come Diogesi, come Caritas e anche come Comune dovremmo avere l'incontro a queste famiglie, perché molte di queste famiglie hanno vergogna. Hanno vergogna. Devo dirle perché io credo che se non avessero vergogna, noi a Pagani non avremmo 60 persone ogni giorno che vengono alla mensa, avremmo 600 persone. Ma la povertà non è fatta soltanto di precarietà e di mancanze. C'è anche un aspetto umano, di rapporto, che in una società come quella di oggi rende ancora più evidente. Un peccato sociale lo chiama Don Roberto Farruggio. È un peccato sociale, sì. Dobbiamo imparare ad aprire noi, ciascuno di noi, il cuore agli altri, ad un'attenzione a ciò che ci accade intorno e poi coinvolgere con coraggio, anche con forza, parlare, denunciare degli aspetti di povertà, perché tutti possiamo fare la nostra parte per tutto questo. La comunità cristiana, ma l'intera società civile.